Nella prossima puntata, sotto la doccia di Singing in the Car, assieme a me, c'è... Chi c'è? È Filippa Lagerbock! Ciao! Ma che carina quella cuffietta! Ma non solo, anche la pappella! Se sei a tuo agio, allora... Mi sento molto a mio agio, proprio quella parola giusta è essere a mio agio! Però immagino, immagino, ti vedo con la cuffietta proprio nel tuo mondo! Mi porta un po' di sollievo e sostegno! Allora, Filippa, raccontami, quando sei a casa, che cosa canti sotto la doccia? Io canto volentieri sotto la doccia e una delle canzoni che canto spesso è Hit the Road Jack! Hit the Road Jack! L'adoro! Ti piace? Da morire! Eh, la vuoi sentire! Poi, bella frizzante la mattina per darti la carica! Vero? Ci sta! Wow! Wow! Hey! Ok, qua un sacco di what you want! Oh, woman, oh, woman, oh, woman, don't you treat me so mean! You're the only woman that I've ever seen! I guess this is this and so! I have to pack my things and go! Hit the Road Jack! Hit the Road Jack! And don't you come back no more, no more, no more, no more, no more! Hit the Road Jack! And don't you come back no more! What you say? Hit the Road Jack! And don't you come back no more, no more, no more, no more! Hit the Road Jack! Singing in the car! Metti in moto la voce! And don't you come back no more! Never! No, dai! Woo! That's right! No more! Ma come ha fatto sto Jack che se ne deve andare e non tornare mai più? Woo!